l'anticiclione delle azzorre si portende verso questo fine settimana verso l'europa centrale determinando sulla regione l'afflusso di correnti settentrionali piuttosto freschi inizialmente poi con temperature in aumento in quota nel corso dei giorni successivi sabato provvediamo tempo prevalentemente buono con cielo in genere poco nuvoloso su tutta la regione sarà possibile in giornata qualche nuvolamento specie sulle prealpi che potrà dar luogo qualche locale rovescio temporale eventualmente si potrà portare questo rovescio anche verso alcune zone della pianura temperature non troppo elevate tra 20 22 e 27 gradi sulla costa tra 19 e 28 circa sulla pianura soffierà bora moderata sulla costa temporaneamente sostenuta nel pomeriggio la giornata di domenica sarà buona con cielo in genere sereno poco nuvoloso ancora borino bora moderata sulla costa ma in giornata prevarà la brezza specialmente verso l'ignano e per quanto concerne probabilità le precipitazioni sarà molto basso quasi nulla anche in montagna le temperature rimangono tutto sommato piuttosto gradevoli con valori tra i 18 e i 27 gradi sulla costa tra i 15 e i 28 sulla pianura bel tempo anche all'inizio della prossima settimana con temperature però gradualmente in aumento è tutto dall'osmer arturo cucillo vi saluta